E' un ragazzo buono, generoso, non diceva mai niente di sbagliato, lui interveniva soltanto se poteva dare una mano, se poteva dire una parola buona per i compagni. E' finito tragicamente, però nel nostro piccolo l'unica cosa che possiamo fare è ricordarlo, perché fino a quando noi lo ricordiamo, lo ricorderemo sicuramente, e lui non sarà del tutto scomparso, perché continuerà a vivere in noi. Adesso invece passiamo a...